L'utilizzo della linea T1 Bergamo Albino del tram delle Valle ottiene un risultato che va oltre le aspettative della Teb. La tramvia ha infatti contribuito a un cambiamento delle abitudini dei passeggeri che dall'inizio del servizio a oggi hanno preferito al trasporto su gomma una mobilità su rotaia con benefici per l'ambiente in termini di minor traffico sulle strade e quindi minore inquinamento atmosferico e per la qualità della vita delle persone. Il tram è stato un elemento di modifica e innovazione che ha cambiato le abitudini dei cittadini come sottolineato da Gian Battista Scarfone, amministratore delegato Teb. Abbiamo ormai stabilizzato un numero di passeggeri che è dell'ordine di 70.000 passeggeri nel corso della settimana, circa i 10-11.000 passeggeri giorno. Ovviamente nel periodo estivo come questo c'è un calo fisiologico legato al fatto che le scuole sono chiuse e che le attività lavorative sono ridotte. Ad utilizzare il mezzo di trasporto anche un crescente numero di nuovi utenti che hanno capito la qualità del servizio e hanno percepito il tram come un elemento per cambiare il loro stile di vita. A completamento del servizio presentato la Teb ha comunicato che è entrato in vigore il nuovo regolamento per il trasporto delle biciclette sul Transirio. Dopo un anno di sperimentazione abbiamo ritenuto di precisare meglio alcune disposizioni. Abbiamo confermato ovviamente la possibilità di portare a bordo nelle ore di morbida fino a quattro biciclette. Abbiamo specificato cosa che non era stata definita nel regolamento precedente, quali sono invece gli orari cosiddetti di punta dove non è possibile portare a bordo biciclette. Questo lo facciamo soprattutto ovviamente nei giorni feriali quando l'affluenza dei passeggeri è tale nelle ore di punta da non essere compatibile con la presenza a bordo di biciclette. Teb resta a disposizione del pubblico per offrire il nolleggio di tram interamente riservati. In questo caso si possono trasportare fino a un massimo di 25 biciclette. Grazie. Grazie. Grazie.